Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Iniziamo a parlare finalmente di suono Finalmente, dopo aver parlato per tante video lezioni di video Come lavorare con il video in Adobe Premiere Le prossime lezioni, i prossimi video tutorial saranno dedicati al suono Vedremo come realizzare un audio di buona qualità Come utilizzare gli strumenti che Adobe mette a nostra disposizione Per gestire al meglio il suono E affronteremo argomenti molto interessanti Per chiunque abbia a che fare con l'audio Nelle produzioni dei contenuti multimediali Prima però vi ricordo, come sempre Il mio sito internet www.fabioambrosi.it Sito dove troverete l'elenco di tutte le lezioni di questo corso Introduttivo ad Adobe Premiere E ovviamente vi ricordo e vi consiglio Se avete voglia di iscrivervi Iscrivervi a questo canale YouTube Per non perdere i prossimi tutorial Come anticipato parleremo di audio Da qui ai prossimi tutorial E parleremo di argomenti molto 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 interessanti Secondo me Per chiunque abbia l'intenzione di gestire il suono Delle proprie produzioni multimediali Questi sono gli argomenti che affronteremo Nei prossimi capitoli di questo corso introduttivo Nella prossima lezione Parleremo dell'anatomia del suono Vedremo come funziona E quali sono le caratteristiche del segnale audio digitale Quindi parleremo di frequenza Frequenza di campionamento Profondità di beat Canali mono Canali stereo Ci metteremo un po' d'accordo sui termini Da utilizzare quando parliamo di audio digitale Poi ancora Nelle prossime lezioni Nel tutorial successivo Parleremo della differenza che esiste Tra le tracce audio E i canali audio Spesso si utilizzano questi due termini Come fossero sinonimi In realtà scopriremo che la traccia audio Non è altro che il contenitore Dei canali audio Ma ne parleremo diffusamente Questo capitolo Del corso di Adobe Premiere Poi ancora Parleremo delle dissolvenze audio Vedremo come realizzarle In Adobe Premiere Abbiamo già anticipato qualcosa Quando abbiamo parlato delle transizioni video Noi andremo avanti Quest'oggi vedremo come fare Delle transizioni audio Vedremo i tasti di scelta rapida Da utilizzare Che sono fondamentali Per lavorare in maniera veloce E pulita Parleremo poi Di come impostare il volume Corretto Quando si monta Un contenuto multimediale Ovvero Tutti domandano Si chiedono Ma che volume deve avere La traccia audio Quando faccio un video Ecco dipende E lo vedremo Soprattutto in questo capitolo Vedremo come sistemare il volume Parleremo poi Della normalizzazione dell'audio Vedremo che cos'è Cosa significa normalizzare Quali sono i pro E quali sono i contro Della normalizzazione Parleremo dei compressori audio Vedremo il compressore audio Cos'è e come funziona È un concetto simile Se volete Alla normalizzazione Ma Ha delle differenze E può esserci utile In alcune situazioni Lo vedremo meglio Lo studieremo Nel capitolo Dedicato a questo argomento Poi parleremo Dei keyframe Per gestire i livelli audio Perché chiaramente Anche l'audio Anche l'audio ha le sue proprietà E queste proprietà Possono essere manipolate Con dei keyframe Lo vedremo Parleremo poi del guadagno Ovvero Vedremo come regolare il volume Utilizzando il parametro guadagno Della traccia audio O del canale audio Ma lo vedremo meglio nel dettaglio Parleremo anche degli strumenti Messi a disposizione da Premiere Nel pannello Adobe Audio Essentials Gli audio essentials Sono degli strumenti Molto potenti Che permettono anche A chi non ha particolari competenze Di suono Di audio Di fare Una Soundtrack Professionale Ne parleremo diffusamente Così come parleremo diffusamente Dei mixer Che sono presenti in Premiere Esiste un mixer per le clip Esiste un mixer per le tracce Vedremo quali sono Come trovarli Come utilizzarli Parleremo poi Sicuramente parleremo poi Di come inserire gli effetti audio Nelle nostre clip sonore Parleremo dell'eco Parleremo dei filtri Parleremo dei riverberi Parleremo dei delay E vedremo Come inserire questi effetti Nelle nostre tracce audio O nelle nostre clip audio E poi parleremo infine Di come lavorare l'audio Dei nostri video Montati in Premiere Utilizzando Adobe Audition Perché? Perché Nelle ultime versioni di Premiere E di Audition In generale Nelle ultime release Di Adobe È possibile Impacchettare Il nostro suono E spedirlo Ad Audition Per lavorare In maniera più professionale La nostra colonna sonora Direttamente in un software Come Audition Dedicato all'audio Questo è il programma Che intendo seguire Da qui Ai prossimi capitoli Ai prossimi tutorial Iscrivetevi a questo canale YouTube Per non perdere I prossimi video Chiaramente www.fabbiambrosi.it Per gli articoli Allegati A ciascuna lezione Iniziamo subito Parlando Dell'audio digitale Cos'è E come funziona Al prossimo capitolo